Nel 2020 le componenti di molto di quello che ci circonda, le auto come le abitazioni, saranno ecosostenibili, costruite con materiali riciclabili e al contempo duraturi nel tempo. Parte da questo assunto il progetto interregionale di filiera della Canapa che a Gualdo Tadino è stato presentato dall'associazione Guardo Avanti negli spazi della Roccaflea, presenti come interlocutori oltre al sindaco Massimiliano Presciutti, l'assessore regionale all'agricoltura Fernanda Cecchini. A presentare i contenuti del progetto Oriana Anastasi, già sindaco di Valfabbrica, e Luciano Recchioni, fondatori di Guardo Avanti. Il progetto partirà già ad aprile, con la semina, tra Marche e D'Umbria, di 60 ettari di canapa, 50 agli agricoltori che hanno aderito nelle due regioni, una quindicina quelli dell'Eugubino Gualdese. La canapa è una pianta con grandi doti di adattamento al territorio, seminabile ad altitudini che vanno dagli 0 ai 1500 metri. Ha bisogno di poca acqua e una manutenzione relativa a fronte di un'alta produttività e capacità rigeneranti del terreno. Della pianta si utilizza tutto, dai semi usati per la produzione di olio alimentare a farina, alle paie, il cui utilizzo principale, oltre che tessile, è quello edile. Dalla canapa, infatti, si ottengono laterizi per l'edilizia con capacità isolanti e, a breve, tramite brevetto, anche antisismici. La filiera umbro marchigiana, che si avvale della consulenza del consorzio ABN, rappresentato ieri da Fausto Spilla e dalla FITS di Banca Intesa, per la quale era presente Roberto Leonardo, ha già stipulato contratti di vendita del prodotto che garantiranno agli agricoltori l'immediato introito già nel primo anno, seppur la produzione a regime è stabilita su un trend di tre anni. I semi saranno pagati da aziende del settore alimentare, 150 euro al quintale, mentre le paglie usate per l'edile vengono pagate 10 euro al quintale, 100 euro a tonnellata. Considerando una produzione a regime di 12 quintali per ettaro, si stima che ogni ettaro frutterà complessivamente agli agricoltori circa 2.000 euro, a fronte di un costo di lavorazione di circa 200 euro. Per superare il gap della mancanza sul territorio di macchine agricole ad hoc per la lavorazione della canapa, le aziende hanno stipulato un contratto con la Tecnocanapa di Milano, che da settembre a dicembre metterà a disposizione sul territorio umbro-marchigiano la macchina battitrice per la raccolta. Abbiamo messo le base al progetto e siamo pronti per partire, afferma Oriana Anastasi, siamo convinti che si metterà in moto un circuito virtuoso che potrebbe portarci a breve alla creazione di una start-up sul territorio non solo per la coltivazione della canapa ma anche per la lavorazione della stessa Scopi ed Ili. La formula scelta per legare tra di loro i vari agricoltori e quella della cooperativa creando massa critica capace di presentarsi più forti sul mercato. Apprezzamento da parte dell'assessore regionale Cecchini per un progetto che è partito autofinanziandosi. Alle istituzioni si chiede ora di valorizzare il prodotto canapa riconoscendone le validità sia nell'alimentare che nella edilizia antisismica.